per, diciamo, se vuoi ottenere l'attenzione di una persona bisogna mettere in atto una comunicazione interattiva cioè erogare emozioni e in cambio dell'erogazione di emozioni otterrai attenzione perché la parte emotiva vive e si nutre di tensioni emozionali e quindi dedica tutte le sue attenzioni a chi gli genere emozioni d'altra parte, questo è evidente, quando voi siete coinvolti da qualunque cosa che vi stimola emotività, che vi genere emotività voi siete completamente concentrati su quella situazione pensate ad esempio a quando, ma anche dovete sostenere un esame, un lavoro una riunione non soltanto nella seduzione che vi genera tensione questa tensione emozionale ha il potere, come una calamita di attrarre completamente la vostra attenzione e lo stesso discorso è quando dovete magari incontrare una persona dovete vedere una persona che magari vi interessa ma vi interessa perché vi genera tensione non che vi genera tensione perché vi interessa questo è un po' il concetto di fondo quindi se noi vogliamo sedurre rapidamente dobbiamo ottenere l'attenzione erogare emozioni ma dobbiamo farlo in modo subliminale subliminale cosa vuol dire? al di sotto della solida coscienza cioè le emozioni che dobbiamo erogare devono essere al di sotto della solida coscienza cioè la mente cosciente dell'altra persona non si deve rendere conto che noi stiamo erogando tensioni perché altrimenti subentra il meccanismo di difesa il meccanismo di difesa che cos'è? beh il meccanismo di difesa è un meccanismo ad esempio quello di dissociazione mi dissocio da questa persona perché il meccanismo di difesa ci difende dalle emozioni e quindi il modo più semplice per mettere in atto un meccanismo di difesa è la dissociazione mi dissocio da questa persona non lo prendo in considerazione gli chiudo la porta in faccia poi che il meccanismo di difesa riesca o non riesca a difenderci questo è un altro discorso ma tanto ci può mettere il bastone tra le ruote quindi noi tra l'altro utilizzare il meccanismo di difesa se noi sapessimo usarlo nel modo giusto sarebbe il modo migliore per difenderci ad esempio dai narcisisti o dalle persone che potenzialmente sono persone tossiche per noi che potenzialmente sono relazioni tossiche per noi quindi imparare a gestire il proprio meccanismo di difesa è anche importante perché possiamo imparare a difenderci però spesso tutto questo avviene inconsapevolmente noi andiamo a difenderci da persone che in realtà non sono così pericolose così tossiche così ostili e noi riusciamo a difenderci da quelli che sono più ostili perché mettono in atto una persuasione subliminale quindi subliminale vuol dire di sotto la sua ricoscienza vuol dire che entrano dentro di noi senza senza che ce ne accorgiamo un saluto a Patrizia come facciamo a a quindi a erogare emozioni in modo subliminale beh il modo più semplice è quello di mettere in atto dei comportamenti simil genitoriali cioè ognuno di noi ha un genitore al suo interno un comportamento genitoriale che rappresenta saluto Chris che rappresenta il suo come dire stimolatore emotivo un saluto a Wormall rappresenta il suo stimolatore emotivo cioè noi siamo stimolati emotivamente da un simbolo diciamo così da un comportamento da un atteggiamento genitoriale che è rappresentato dal cosiddetto genitore diciamo sfuggente perché non da quello con il quale abbiamo il conflitto perché quello che abbiamo il conflitto rappresenta praticamente noi ereggiamo il totem contro il genitore conflittuale ereggiamo il totem e il totem il totem a difesa proprio dal genitore se voi andate a leggervi totem e tabù di Freud rappresenta proprio quello che cos'era il totem che ereggevano i primitivi le tribù primitive studiate da Freud e leggevano e reggevano creavano questo totem questo simbolo diciamo così contro contro diciamo l'ira degli dèi ma l'ira degli dèi è è praticamente invece l'ira genitoriale perché gli dèi rappresentavano diciamo erano rappresentati o rappresentativi dei genitori fondamentalmente del genitore conflittuale quindi perché qual è il meccanismo che sta alla base di questo sta alla base che se io ho un genitore conflittuale con il quale verso il quale ho sviluppato rabbia verso il quale ho sviluppato rancore e risentimento verso il quale ho sviluppato rabbia rancore e risentimento dobbiamo adesso poi rispondo anche a Roxy Rosa però finisco il discorso tanto ci sarei arrivato come facciamo noi allora perché reggiamo un totem perché il genitore conflittuale noi abbiamo sviluppato rabbia verso il nostro genitore conflittuale e quindi questa rabbia genera tra virgolette anche dei sensi di colpa perché come dire anche secondo l'archetipo freudiano del proprio che secondo l'archetipo freudiano il genitore conflittuale è il genitore dello stesso sesso ma in generale diciamo andando oltre Freud il genitore conflittuale potrebbe essere uno dei due genitori indipendentemente dal sesso e il bambino tra virgolette sviluppa pensieri di morte verso il genitore conflittuale cioè dentro di lui scatta scatta il desiderio di uccidere il genitore conflittuale ma è un desiderio che è appunto toteme tabù è un desiderio che è tabù e quindi e quindi però per aver avuto a livello perché i due tabù diciamo nei confronti dei genitori sono il tabù di incesto quindi sesso e eros etanatos cioè infatti le cose peggiori che possono essere viste anche da un punto di vista legale se vogliamo è avere rapporti sessuali con un genitore o uccidere un genitore quindi sono i due più grandi tabù dell'essere umano il figlio che ha rapporti con il genitore viene considerato avere rapporti sessuali diciamo con il genitore è considerato una cosa come dire vergognosa schifosa insomma repulsiva diciamo così no mentre ad esempio negli animali questo non c'è e allo stesso modo uccidere un genitore o un genitore che uccide un figlio insomma è sempre considerato una delle cose più negative in assoluto e per cui sono i due tabù totem e tabù sono questi allora il totem è proprio per difenderci da che cosa difenderci da questi nostri stessi pensieri che noi abbiamo avuto nei confronti dei genitori in questo caso nel caso dei genitori conflittuali pensieri di morte pensieri di aggressività e quindi che scaturiscono sensi di colpa e quindi le divinità irate diciamo così non sono divinità esterne a noi ma in realtà sono divinità interne a noi sono i nostri stessi pensieri in questo caso pensieri di morte verso il genitore conflittuale tutto questo per dire che cosa per dire che non è il genitore conflittuale il comportamento del genitore conflittuale quello che ci coinvolge ma è dell'altro quello che in qualche modo potrebbe essere il genitore abbandonico quello col quale non abbiamo avuto un conflitto ma quello verso il quale abbiamo sviluppato non Thanatos ma Eros perché le due energie sono quelle Eros e Thanatos verso un genitore poi ci sono le persone diciamo ci sono casi in cui sono abbastanza rari in cui sviluppiamo Eros e Thanatos verso lo stesso genitore e allora in quel caso lì diciamo diventa quasi un comportamento potremmo dire verso l'inverso concentrati su un genitore stesso perché verso lo stesso genitore va da sviluppare Eros e Thanatos cioè amore e odio e sarebbe un po' la metafora del film a letto con il nemico se voi ricordate il film a letto con il nemico tu andavi a letto con la persona che odiavi di più perché da un lato provavi attrazione e passione e dall'altro e questi casi diciamo saluto a David domande e risposte sì chi vuol fare domande darò le risposte e e proprio nel caso in cui diciamo così abbiamo a che fare con una persona che ci vuole coinvolgere che ci vuole sedurre penso oggi la giornata ad esempio dove si parla spesso di femminicidi o di cose di questo genere però molte donne o anche molti uomini si innamorano del loro carnefice quindi è come lo stesso discorso odio amore verso un unico genitore per cui la stessa persona che ami coincide con la persona che odi e quindi però normalmente non è così diciamo ci sono casi in cui abbiamo sviluppato questi imprinting in cui verso lo stesso genitore abbiamo generato Eros e Thanatos e Freud non contempla tanto questo perché Freud identifica sempre Thanatos verso il genitore di sesso dello stesso sesso Eros verso il genitore di sesso opposto questo nell'identificazione eterosessuale mentre nell'identificazione omosessuale secondo la teoria Freudiana è esattamente il contrario cioè sviluppo Eros verso il genitore dello stesso sesso e Thanatos verso il genitore di sesso opposto in realtà io non credo che poi dipenda molto da questo ma comunque è un po' un altro discorso quindi quello che noi dobbiamo fare nella seduzione per ottenere attenzione ho fatto tutto questo spiegone però non voglio approfondire più di tanto perché poi il tema è legato alla seduzione nella seduzione noi dobbiamo capire qual è il genitore verso il quale la persona ha generato Eros e mettere in atto un comportamento simile a quel genitore cioè dobbiamo duplicare il comportamento di quel genitore duplicarlo a livello simbolico ovviamente cioè comportarci in modo più materno più protettivo se è il genitore materno la madre fondamentalmente il genitore verso il quale la persona ha sviluppato Eros oppure comportarci in modo più protettivo più diciamo paterno potremmo dire non protettivo paterno normativo diciamo così rigido se il genitore verso il quale ha sviluppato Eros è il genitore e il padre ecco quindi che riuscire a coprire diciamo a scoprire qual è dei due diciamo come sono dislocate le energie ci dà una grande possibilità di sedurre ci dà una grande possibilità di conquista come facciamo a scoprire quali sono queste energie beh lo scopriamo abbastanza facilmente utilizzando il linguaggio non verbale se io ad esempio comunque capisco che comportandomi in un certo modo ottengo sia dei gradimenti da un punto di vista emozionale ma anche una complementarietà da un punto di vista comportamentale e quindi e di fatto acquisisco potenziali di seduzione di fatto la persona mi dà come dire l'esclusiva cioè inizio a scalare il livello delle sue priorità inizio a diventare prioritario per questa persona o prioritaria per questa persona piano piano ottengo sempre più risultato ottengo sempre più potenziale e quindi l'esclusività perché l'esclusività che ottengo da una persona è direttamente proporzionale è direttamente proporzionale al mio al potenziale che ho maturato nei confronti di questa persona quindi più potenziale ho più esclusività ho e il potenziale e che cos'è il potenziale è proporzionale a quante emozioni ho dato a questa persona quindi più emozioni riesco a erogare però sempre in modo subliminale cioè vai passando la sfera logica del meccanismo di difesa di questa persona più emozioni riesco a erogare più più potenziale accumulo più potenziale accumulo più attenzioni e più prioritario diventerò per questa persona quindi alla fine dobbiamo appunto bypassare il meccanismo di difesa agire in modo subliminale e capire qual è il genitore conflittuale poi ci sono anche tanti altri sistemi diciamo di somministrare emozioni subliminali andando ad amplificare i turbamenti presenti naturalmente delle persone ma anche se io conosco ad esempio qual è il tasto che è toccato genera un quid emotivo se vado a toccare quel tasto in modo nascosto in modo tale che l'altra persona non se ne accorga non se ne accorge e gli ergo una grande tensione emotiva e questa tensione emotiva ripeto deve essere soltanto però deve avvenire in modo nascosto in modo subliminale perché se l'altra persona sgama il fatto che io sto dando emozioni innesca il meccanismo di difesa e mi cortocircuita cioè mi chiude la relazione perché ripeto noi abbiamo e d'altra parte come dicevo prima di imparare noi stessi a padroneggiare il nostro meccanismo di difesa è fondamentale perché possiamo difenderci dai narcisisti dai manipolatori da persone tossiche da persone negative quindi da un lato dobbiamo imparare a bypassare il meccanismo di difesa degli altri ma dall'altro lato dobbiamo imparare a rendere più efficace il nostro meccanismo di difesa il meccanismo di difesa è quello della dissociazione cioè capisco che una persona si comporta mai nei miei confronti e mi dissocio attraverso il il vaffa attraverso il vaffanculo diciamo così il vaffanculo è quello che mi che mi sgancia dal che mi sgancia dalla persona mi dissocio il vaffanculo è il mi dissocio mi dissocio da questa persona ma dobbiamo imparare a farlo per bypassare l'ho detto adesso per bypassare il meccanismo di difesa dell'altra persona dobbiamo scoprire qual è una delle tante cose quali sono i tasti diciamo i trigger che una volta che io tocco vado a generare emozione in modo subliminale quello più uno dei più potenti ce ne sono diversi è quello di emulare il comportamento del genitore verso il quale quella persona da bambino si è innamorato quindi capire se una persona è stimolata più dal comportamento materno qua posso farlo ad esempio anche a livello non verbale se io emetto tutta una serie di gestualità ad esempio la carezza materna un comportamento materno nei confronti di un'altra persona e ottengo dei gesti di gradimento toccamento delle labbra andare in avanti mordicchiamento vuol dire che ho trovato il comportamento materno e il comportamento al quale quella persona non sa resistere se ottengo anche a livello non verbale dei rifiuti raschiamente va indietro si tocca il naso vuol dire che quel comportamento lì è quello verso il quale ha sviluppato Thanatos non Eros e noi dobbiamo per sedurre diciamo erogare Eros non Thanatos e due energie sono la pulsione di morte e la pulsione di vita l'energia e questo è la cosa che hanno che è fondamentale per quanto riguarda il tono di voce non c'entra nulla per quanto riguarda il conflitto perché il tono di voce riguarda più un altro turbamento di cui non ho parlato che riguarda più lo stimolo del turbamento desiderio e possesso che desiderio e possesso sono altri due turbamenti diciamo c'è persone che devono desiderare tantissimo tutti devono desiderare prima di possedere ma ci sono persone che devono desiderare tantissimo le persone che devono desiderare tantissimo amano essere sgridate e il tono duro rappresenta la sgridata che non c'entra nulla per quanto riguarda il genitore per quanto riguarda il genitore non c'entra assolutamente nulla ma c'entra con quest'altro turbamento mentre invece il tono morbido meno incalzante è più collegato a persone che amano essere complimentate cioè amano essere gratificate anche a livello emotivo fondamentalmente quindi sono due cose diverse però è un altro tasto subliminare noi abbiamo diversi trigger ma un trigger potrebbe essere anche il fatto che so che questa persona che ne so vive un turbamento sul lavoro se riesco ad amplificare di quello ad andare a sollecitare si dice tutti i punti distonici tutti i punti dove andando a toccare dei tasti vado a puff generare delle emotività ma ovviamente questo solo se avviene a livello subliminale perché nel momento in cui vengo sgamato mi viene tutto cortocircuitato perché allora la parte logica conviene a sviluppare razionalità noi dal canto nostro dobbiamo dovremmo imparare a sviluppare la capacità di avere i cani da guarda di avere il meccanismo di difesa che funziona bene per difenderci da chi potrebbe toccare anche inconsapevolmente dei tasti che potrebbero però generarci troppa emozione e quindi coinvolgimento e quindi potremmo innamorarci della persona sbagliata la persona sbagliata è quella che il bad boy che ti genera tensione emotiva e ti fa innamorare ecco questo è un po' il nucleo fondamentale come ottenere attenzione a livello subliminale e saperlo utilizzare è veramente molto importante bisogna saper toccare i tasti giusti bene bene mi raccomando nel frattempo iscrivetevi a tutti i miei canali youtube ovviamente iscrivetevi a tutti i miei canali adesso c'è anche il nuovo canale riconquistare l'ex con riconquista l'ex con massimo terramasco ci sono tre canali nuovi che sono conquista falli innamorare sedurre un uomo e conquistare l'ex quindi iscrivetevi a tutti questi tre che